La chiusura al traffico della superstrada Fano-Grosseto si replica questa volta però avvisando per tempo. Dalle 9 di mercoledì 29 novembre alle 9 di giovedì 6 dicembre il tratto tra Fano-Sud e la rotatoria di via Soncino verrà interdetto al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire a Pavimental di ultimare i lavori che riguardano il cavalcavia nei pressi dello svincolo per l'accesso alla 14. Questa volta per non sbagliare Assessore Vertici di Autostrade per l'Italia e di Pavimental hanno indetto una conferenza stampa ad hoc per scongiurare il pericolo caos che si è verificato il 31 ottobre scorso quando migliaia di auto e camion si sono trovati la porta sbattuta in faccia dopo essersi sorbiti qualche ora di esasperante ed inspiegabile coda alle 7 della mattina. Ovviamente cerchiamo di informare la popolazione, a informarsi, a guardare le mappe, a guardare le viabilità alternative perché quei giorni in quel tratto via Papiere, via Soncino ci sarà molto più traffico. Ci dispiace ovviamente, non vogliamo recare danno quindi lo vogliamo dire per tempo. Cerchiamo, la gente si deve informare e deve trovare una viabilità alternativa per evitare code. È inevitabile, cercheremo ovviamente come Comune di Infano di mettere la segna elettrica necessaria, di mettere i vigili urbani, però questo è d'altra parte inevitabile. Arriveremo però a Natale con tutta la viabilità risolta e quindi siamo contenti di questo perché i lavori vediamo che stanno andando avanti abbastanza piuttosto bene e quindi siamo contenti di questa cosa. Chiusura necessaria, si diceva, per consentire alle maestranze di operare in sicurezza per un delicato intervento e poter mettere un pacco dono sotto l'albero dei fanesi, ultimando così i lavori entro Natale. Dobbiamo assolutamente chiudere, abbiamo contratto i tempi al massimo. L'impresa lavorerà su turni di 8 ore, 3 turni, quindi tutte e 24 ore, anche sabato e domenica proprio per cercare di contrarre i tempi, di dare meno disagi possibili che evidentemente non nascondiamo ci saranno, ma cercheremo di fare il nostro meglio per contrarli e se riusciremo anche ad aprire un giorno prima, insomma l'impegno c'è e dobbiamo chiudere per aprire quest'opera per Natale, quindi completarla. Per il resto delle opere compensative a giugno 2019 verranno consegnati i tre quarti delle opere, mentre il fine lavori è previsto per il settembre del 2019. Ma c'è una parte della città che non riderà affatto per la prossima apertura del tratto di interquartieri tra Via Roma ed il Codma, la comunità di Rosciano, per cui la possibilità di attraversamenti ciclopedonali degli interquartieri sarà una storia lunga e travagliata. Ovviamente questo è un percorso anche dal punto di vista burocratico molto lungo perché prima di fare questa attività Autostrada ci deve consegnare i lavori collaudati e poi solo dopo noi possiamo intervenire. È un impegno che ci siamo presi, che continuiamo a prenderci, consapevoli del fatto che purtroppo quel progetto nasce da un peccato originale, cioè non aver fatto una viabilità che prevedesse questo tipo di collegamento. In fase di variante che abbiamo fatto recentemente ci è stato chiesto da Autostrada di non modificare quel tratto perché altrimenti i lavori sarebbero andati a finire troppo in lungo e quindi avremmo perso del tempo, avremmo creato danni anche all'impresa che si occupa dei lavori. Autostrada Autostrada